Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo chest opening Come sapete ormai lo sapete meglio di me E' uscito E' uscito questo benedetto coso Io lo chiamo coso Perché cos'è un robot con una foglia in testa E un corpo rosa Va bene Grazie a tutti quelli che stanno lasciando follow Perché come avevo preannunciato Questo chest opening lo stiamo facendo in live 100 euro ragazzi di chest opening Guardate quante ce ne abbiamo 2020 proprio come l'anno di me In cui siamo adesso Quindi speriamo che anche chest opening non sia dimmer come l'anno Ok E abbiamo anche delle cassettine Cassettine piccole e cassettine grandi E cassettine grandi non le tocco Se non per poi appare il brawler Quelle piccole invece le apriamo prima delle megacasse Per vedere se magari lo troviamo prima di shoppare le megacasse E questa offerta qua mi sembra abbastanza inutile Perché dà solo una megacassa Quindi non la prenderemo Qua ho due offerte identiche Va bene E iniziamo ragazzi iniziamo E speriamo in bene Non mi è mai uscito un brawler In 30 case piccoline Quindi non credo uscirà Però noi ci speriamo lo stesso Non so neanche 30 27 Iniziamo A proposito La percentuale ragazzi ve la faccio subito vedere E codici creatore Codici creatore Ora lo metto non mi dimentico E mitico 02615 Boh vedremo Allora enter code Grax regà il mio amico Grax Subito A posto Siamo pronti Per iniziare questa Non è una canutiera Questa rega è una maglia Non mi dite che è una canutiera Nel caso steste vedendo il video Dando Canutiera Ok E andiamo Possiamo iniziare ragazzi Possiamo iniziare Ovviamente guardo la webcam Non troverò nulla Allora intanto Già delle gemmine a me vanno bene Non dico di no Perché tanto ne spenderemo così tante oggi Che Delle gemmine in più Non fanno mai male Ok Si inizia bene Alle case piccoline Si inizia bene Direi che vada bene Direi che vada abbastanza bene Direi che per adesso Per adesso Siamo partiti bene Perché Come sapete Io non ho la canutiera maxata ragazzi Quindi l'obiettivo di questo video Sarà anche E maxare l'account Dite che ci riusciamo con 1700 gemmine A maxare l'account Io dico di no Però Magari Cosa? 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 Riga 300 gemmine risparmiate Riga Cosa? Ma siamo seri? Riga 300 gemmine Fottute risparmiate Godo Sparici Offerta schifosa Sparici Riga Riga Non mi era mai successo Ovviamente Questa qua la prendiamo subito Perché Sono 330 punti risparmiati E le diamo subito a lui E riga 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 A sto punto dico Tanto non lo maxeremo l'account con questo cesto Quindi scommettiamo Riga Non lo maxeremo Ma riga Devo cercare Riga di Ehm Migliorare subito il valore Alla 9 Perché se non lo migliora a 9 Mi dà sempre i suoi power points E non mi dà Ne so gadget o star power Quindi devo subito portarlo a 9 È la prima cosa che devo fare Madora riga Che fortuna Che fortuna Wow Wow Riga sono ancora impressionato Perché non mi è mai successo Cioè io per dirvi Quando usci Leon Ci misi 2000 casse per trovarlo Quando usci Mr.P Ho dovuto sia spendere le casse E poi shopparlo pure Wow Sprout Diventerai il mio brollo preferito Diventerai il mio brollo preferito Spero di sì Ora ovviamente Apriamo questo qua Doviamo cercare di sparmiare Il più possibile Per le mega casse Ma vabbè il piscio Però il piscio No dai Dai Cioè tra tutte mi dà il piscio Non voglio il piscio Io ragazzi Subito assi Così possiamo trovare il suo gadget Cos'è successo? Ah si è sbloccato il gadget Ha fatto quel rumorone gigante Ok Dai però il piscio no eh Il piscio di Bea Per favore Procediamo Vi dirò A me piace Colt A me piace Quindi questo non lo butto via Io per di più mi sto dimenticando di scrinnare tutti i gadget Non lo butto via questo Non lo butto via Procediamo Ok Le casse normali Le abbiamo finite Questo manca poco Manca poco insomma E iniziamo rega con il vero e proprio obiettivo del video Le Mega casse 2009 gemme Il 2009 è stato un buon anno Vedremo Allora Voglio rega che mi portiate la La vostra fortuna Alzate le mani al cielo E pregate per me per favore Sono 2009 gemme Come ho detto nel In live ragazzi Ne spenderò 1.700 Perché 300 gemme Comunque le voglio tenere per questa skin E per quella di Jesse Forse Quindi comunque 300 almeno le tengo E speriamo Speriamo Due Ok Prima che sia andata bene Rega Non è andata bene Perché Già ieri rega Ho trovato l'altra star power di 8 bit Ora è maxato completamente Ho trovato questa ieri E oggi mi ha dato questa giusto per Io voglio rega I gadget dei brawler sbroccati Per favore Per favore Male Male No 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 Non voglio shoppare Non voglio shoppare No 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 Ho già shoppato No Grazie Ok Ok 9 Livello 9 Livello 9 Fatto E questo ce lo siamo portati a casa Ora Dobbiamo sperare Che il gioco ci dia cose Percentuale 2% del gadget 1% star power E basta Quello ci serve Per favore Per favore Per favore Niente Ti prego No Casse vuote No Non esiste Per favore Appello al gioco Casse Mega casse vuote No Per favore Guarda un attimo i brawler Cioè Non ti puoi permettere di darmi delle macacasse vuote Guarda quanta roba mi potresti dare Dai Dai Gioco Per favore Tanto non troviamo nulla Guarda Eh Va bene Va bene Non la rifi Dico Eh Perché Penny L'ho già portata al 1000 Vabbè Era anche 35 Magari Voglio trovare di più Per favore Voglio trovare di più Per favore Basta Shoppare Basta 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 Il gioco Vuole che io shoppi a tutti i costi Io non voglio shoppare a tutti i costi Ok Allora Tanto non troviamo nulla Tanto non troviamo nulla Oh Per favore Per favore Gioco Ok 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 Mi piace Vi dirò È una delle mie strap power preferite Mi va bene Allora Mi dicono di shoppare le casse da 30 In live Conviene shoppare le casse da 30? Cambiano solo i conti Effettivamente ne ho ragione La percentuale è la stessa Però La megabox è comunque più grande Perché ti dà più roba È uguale È meglio la megabox Ne apro una piccolina Giusto per Se non trovo nulla in questa Andiamo di mega Basta Basta shoppare Basta Basta Perché cliccolino sempre Perché 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 Ok Continuano a dirmi che non cambia nulla È meglio le piccole Oddio Io non lo so ragazzi Se andare di quelle piccole Allora 900 gemme 900 gemme 900 gemme Le faccio di piccoline O di grandi Però speravo di trovare Pista qua Sinceramente Dai io voglio Continuare ad andare di mega Voglio continuare ad andare di mega Non mi interessa Andiamo Ora qua mi dà due bonus Non mi dà nulla Per favore Ancora Dio bono Dio bono Dio bono Dio bono Ok Per favore gioco Non troverò nulla tanto Ma per favore gioco Per favore gioco Ok Fammi almeno maxare il nuovo brawler Per favore Per favore Inutile Inutile Non mi serve quella di baby Ora andiamo di piccolina Grazie a Pippo Che ci ha dato 10 bit Mentre stiamo Registrando il video E Regà Mi sta dando roba brutta 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 Arrivo a 150 Io arrivo a 150 Non mi interessa Mentre 100 demon Ultima Ultima Chiudo gli occhi Niente Vabbè Allora Vi dirò Riepilogo del video Vediamo tutti i punti esclamativi Ovviamente Lui al 9 Speravo sinceramente Almeno al 10 Però Peccato Poi Bo Abbiamo trovato Le mine paralizzanti Bo Completato Regà Bo full Finalmente Tutto trovato Poi Mr.P Non fullato Quasi fullato Perché abbiamo trovato il suo gadget Bea Fullata Completata Grazie a 10 Altri 10 Bit Di Pippo Pippo Io ti sto salutando Grazie Pippo per le donazioni Apparirei nel video Sei tranquillo Colt Quasi fullato Però c'ho sto gadget Regà Che è una roba Fortissima Penny Anche lei Probabilmente la portiamo adesso Anche 35 Perché Con il gadget Ormai è completa Poi già a me piace così Senza gadget Immaginatevi ora Pure lei Lei ora si può mirare Rank 35 Stra easy Brawler praticamente forte ovunque Però con il gadget Sarebbe il top Se trovassi il gadget È rank 35 Che si fa da solo ragazzi Poi Cosa abbiamo trovato ancora Infine BB Grazie ancora Dei 10 Bit Da parte di Pippo E Lei Completata dal punto di vista Dei star power Ma non dei gadget Il video termina qua ragazzi Fatemi sapere Nei commenti Se sono stato fortunato O meno Secondo il vostro parere Secondo me abbastanza Speravo molto di meglio Però il nuovo Brawler L'abbiamo trovato Allora regà Lo start è stato incredibile Abbiamo risparmiato 300 gemme E lo abbiamo trovato Dalla terza cassa piccolina Io Più di così Non mi posso lamentare Sinceramente Certo Erano 100 euro Ci si aspettava di più Quello si Però va bello stesso Dai Io vi aspetto come al solito In live Come anche adesso siamo in live Avete visto che Pippo ci ha donato E che la gente Mi sta lasciando il follow Seguite anche tutti i link In descrizione Instagram siamo quasi a 10.000 Dai regà manca poco Lo swipe up Grazie a Pippo per i dati 10 bit E niente Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti ragazzi